A Latina il Copregliore firma l'ennesimo successo, 1-3 il risultato del match che vale la sesta vittoria di fila degli uomini di Monti, complice un infallibile Simon, ma anche un positivissimo vettori che rientra mettendo a terra palloni importanti. Infinito il primo parziale 35-37, un risultato che mette in luce tenace carattere del Copregliore, qui Simon chiude con il 100% in attacco. Gli altri parziali 25-22, 16-25 e 16-25, i padroni di casa la spuntano quindi nel secondo set. Latina dimostra di non valere l'ultimo posto in classifica, spinge sull'acceleratore, ma nel terzo e nel quarto parziale i biancorossi ritrovano il bandolo della matassa e con un'ottima battuta piegano gli avversari.